Ridotti gli aumenti dei vitalizi, il Consiglio regionale taglia la rivalutazione degli assegni per gli ex consiglieri. Mazzeo, abbiamo ridotto un privilegio di pochi. Ben trovati a questa puntata di Monitor Consiglio. Dopo un serrato confronto tra le forze politiche, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la proposta di legge sulla riduzione temporanea dell'indicizzazione degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura. Il provvedimento è passato con 31 voti favorevoli e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle. L'atto parte dalla valutazione che la piena applicazione del meccanismo di indicizzazione porterebbe ad un eccessivo aumento dell'importo degli assegni rispetto alle esigenze di sobrietà e risparmio dell'ente regionale. Sentiamo le interviste a partire dal Presidente del Consiglio, Mazzeo. Per inquadrare si parla di vitalizi, quindi ex consiglieri. Quanti sono i beneficiari e a quanto ammonta la spesa annua del Consiglio? I beneficiari sono 184 e ad oggi senza rivalutazione parliamo di un gettito pari a 5 milioni e 200 mila euro circa. Senza l'intervento di oggi, nel 2023, quanto in più sarebbe speso? Avremmo avuto un aumento di costo, visto che l'inflazione è stimata intorno al 12%, di circa 700 mila euro. Noi siamo invece la prima regione italiana ad aver approvato oggi, e ringrazio tutti i colleghi consiglieri, una legge che sostanzialmente limita temporalmente l'aumento istat dei vitalizi. In più abbiamo approvato, anche questo all'unanimità, un ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare nella conferenza Stato-Regioni se è possibile proprio toglierlo definitivamente e azzerarlo. Questa è una valutazione che dipende dal rapporto anche con il Governo. Noi abbiamo fatto tutto questo perché in un momento di difficoltà, in cui i cittadini, le famiglie, faticano ancora più del solito il calo energia, l'aumento dell'inflazione, abbiamo voluto dare un messaggio, un messaggio forte, chiaro, che la regione toscana si è presa la responsabilità di ridurre un privilegio per pochi. Era l'unico strumento che avevamo a disposizione e lo abbiamo attuato in maniera molto chiaro. Tenete conto che con questa norma si risparmiano circa 600 mila euro di risorse dei toscani. Non tenete il ricorso di qualche ex consigliere contro questa riduzione? Noi abbiamo lavorato con il legislativo, insieme all'ufficio giuridico, insieme al segretario generale per proporre una norma che in virtù anche di quelle che sono state le scelte, le decisioni in questi anni della Corte Costituzionale, tenesse conto di alcuni indirizzi che sono stati dati. Il primo, che la durata deve essere limitata nel tempo e noi abbiamo scelto una durata di tre anni e il secondo punto è che ci sia progressività ed equità. E lo abbiamo fatto perché abbiamo deciso di fare tre scaglioni. L'1% a chi ha un vitalizio superiore ai 3.000 euro, il 2% a chi ha un vitalizio tra i 1.500 e i 3.000 euro, e il 3% a chi ha un vitalizio sotto i 1.500 euro. Permettetemi però di fare un appello ai colleghi, gli ex colleghi consiglieri. Noi con loro abbiamo parlato, abbiamo parlato a lungo in questi mesi. Io mi auguro che proprio sulla linea indicata dal Presidente Mattarella ci sia la possibilità che loro facciano un gesto forte e che decidano da soli di non richiedere neanche quell'adeguamento che noi abbiamo dovuto fare proprio per fare una legge che fosse, secondo noi almeno, non impugnabile. Insomma, questo è un appello che chiedo a loro a nome di tutti i colleghi consiglieri. Una scelta importante che tiene conto del quadro economico-sociale che i cittadini stanno vivendo negli ultimi mesi e che quindi va proprio incontro a un'esigenza di razionalizzazione dei costi della politica. La Regione Toscana è l'unica Regione italiana che ha deciso di ridurre l'indicizzazione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. È noto che i consiglieri regionali non godono più del vitalizio, sono rimasti in piedi i vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla nona legislatura compresa. Poiché c'è una norma che impone l'adeguamento di questi vitalizi agli indici Istat, oggi la Regione Toscana ha deciso di ridurre sensibilmente questo incremento. E lo ha fatto ancorandosi a dei parametri che si avvicinano in alcuni casi allo zero, proprio per far sì che questo incremento sia da una parte rispettoso del dettato legislativo che ci impone a livello nazionale un adeguamento degli importi dei vitalizi, ma dall'altra parte che sia quanto più possibile contenuto. Una scelta importante che altre Regioni non hanno fatto e che comporterà una riduzione di costi della politica sensibile per la Regione Toscana. Se infatti nulla si fosse fatto a livello legislativo, avremmo avuto per i prossimi tre anni, ragionando del bilancio di previsione 2023-2025, un incremento annuo di costi vicino a 750.000 euro all'anno. In questo modo i costi si riducono a circa 90.000 euro all'anno, quindi con un risparmio sensibile che si avvicina ai 650.000 euro all'anno. Un segnale importante che la Regione Toscana e il Consiglio regionale intende dare ai cittadini toscani in un momento di profonda crisi come quello che stiamo vivendo. Un segnale di contenimento dei costi della politica. Intanto il vitalizio è uno strumento, lo abbiamo detto tutti in aula, ormai obsoleto e superato e forse figlio di un'altra era politica. Il problema è un altro. Il problema è che il vitalizio della Regione Toscana, e qui c'è un'anomalia, il vitalizio della Regione Toscana è un vitalizio che si rivaluta annualmente in base all'Istat. Quest'anno con l'inflazione ad oltre il 12% vorrebbe dire rivalutare di oltre 750.000 euro il vitalizio degli ex consiglieri regionali. Ricordiamo a tutti che gli ex consiglieri regionali percepiscono il vitalizio perché durante la nona legislatura qualcuno ha pensato di fare il bello, quel momento, il paladino dell'antipolitica, non so che cosa, abolendo i vitalizi ma dimenticandosi di dire che li avrebbero aboliti a partire dalla legislativa successiva alla loro. Un primo capolavoro. Detto questo, a me è dispiaciuto che il Consiglio regionale abbia dovuto legiferare per impedire che si rivalutassero i vitalizi del 12%. Mi è dispiaciuto perché stiamo parlando di vitalizi che prendono degli ex amministratori, degli ex consiglieri, cioè persone che in vita loro hanno amministrato e governato la nostra Regione, che sanno cosa significa governare in momenti drammatici per il Paese come questo, anche se forse in vita loro hanno governato in momenti più floridi, ma sanno cos'è un operaio che protesta sotto la Regione perché perde il lavoro, uno studente che protesta, una ditta che chiude, una RSA che si lamenta, lo sanno benissimo. E allora avrebbero dovuto fare una cosa semplicissima, seguire l'esempio del Presidente della Repubblica, della massima carica dello Stato italiano, che ha rinunciato all'adeguamento della propria pensione e del proprio vitalizio e fare lo stesso. Avrebbero dovuto rinunciare loro, invece anziché rinunciare hanno inviato una lettera dove si paragonavano ai pensionati italiani chiedendo un adeguamento perlomeno pari a quello che il Governo nazionale aveva previsto per le pensioni minime in Italia. Penso ci sia grande differenza, grandissima differenza tra un pensionato che percepisce la pensione minima e un privilegiato come noi che ha avuto fortuna di guadagnare tanti soldi alla politica in vita propria. Sì, una scelta giusta, una scelta difficile, però il coraggio di un gruppo dirigente, questo che oggi è in Consiglio regionale, di chi ha guidato questa trattativa, abbiamo avuto il coraggio di andare a ridurre l'importo dei vitalizi alle persone che prima di noi hanno amministrato la Toscana, fosse stato per me avremmo potuto anche eliminare, ma sicuramente andremo in questa direzione perché c'è un impegno congiunto delle forze politiche che va verso il superamento della rivalutazione Istat, intanto il coraggio di togliere 600 mila euro che saranno destinate invece ai cittadini toscani, al mondo delle associazioni, alla cultura, ai giovani, a tanti progetti che possiamo fare. È assurdo pensare che nel mondo di oggi persone che vivono di un privilegio potessero ancora pensare che questo privilegio potesse essere anche rivalutato. Abbiamo fatto il massimo, siamo l'unica regione in Italia che ha avuto questo coraggio di farlo, credo che si possa andare oltre rispetto al superamento dello stesso strumento, ma intanto oggi è una bella pagina toscana dove tutti i gruppi politici, indipendentemente dall'appartenenza, hanno condiviso l'idea di chiudere una stagione, quella dei privilegi del passato, quanto noi come amministratori non abbiamo questo privilegio, è corretto che sia, questo ci consente di andare a testa alta dai nostri cittadini, sia questa legislatura che quella precedente, male avevano fatto in passato invece a pensare di mantenerselo per sé, pensare di rivalutarselo e poi a quelli dopo togliere. Hanno fatto bene a toglierlo a noi, ma noi facciamo bene ad eliminare il livello della rivalutazione. Non ho visto vento l'eventuale ricorso. Affronteremo a viso scoperto e con coraggio questo ricorso, credo che sarà ancora più forte il nostro coraggio, quello che andrà a togliere definitivamente questo privilegio del passato. Io ho condiviso l'ordine del giorno di Galli, perché sono convinto e sosterrò la proposta di andare a zerare definitivamente questo privilegio. È un privilegio dovuto da chi in passato aveva deciso di legiferare questo. È logico che oggi, di fronte a un'inflazione come questa, di fronte a un momento difficile come questo, la prima cosa sarebbe stata quella di chiedere proprio ai beneficiari di questo vitalizio di rinunciare. Così ci aspettiamo magari una risposta anche da loro. Nel frattempo però il Consiglio regionale ha dato un messaggio. Un messaggio è quello di dire che fermo restando il vostro vitalizio, ma la rivalutazione dell'Istat è quella, pensiamo, che dovesse essere con più contenuta. Per questo era l'unico strumento che ci poteva permettere di arrivare a questo obiettivo. Passo un suo ordine del giorno, di cosa ha chiesto? Il mio ordine del giorno, intanto ringrazio tutti i capogruppo perché lo hanno controfirmato, permettendomi appunto di poterlo discutere in aula. È quello di andare nei prossimi semestri, di dare mandato al Presidente Gianni nell'accordo Stato-Regioni, di portare avanti proprio questa nostra iniziativa, cioè quello di togliere definitivamente non il vitalizio, perché quello non possiamo, ma la rivalutazione Istat. Al tempo stesso, nel momento in cui dovesse esserci parere favorevole, andremo a rivisitare anche la legge regionale del 2019. Questo, visto che la Regione Toscana, spesso e volentieri, è stata promotrice di grandi iniziative nazionali, ci auguriamo che questo, il nostro Presidente, lo porti veramente a casa, proprio perché riteniamo che sia una cosa giusta nei confronti, ad esempio, delle pensioni che non hanno tutti questi privilegi. Da aggiungere che i 5 Stelle non hanno partecipato al voto perché ritengono la legge insufficiente e chiedono ai consiglieri di rinunciare spontaneamente ai vitalizi. Cambiamo argomento. Fino al 12 di dicembre, a Fivizzano, va in scena la manifestazione Sapori di Natale 2022. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo del Pegaso, oltre 50, agli stand di enogastronomia con piatti e prodotti tipici della lunigiana e del territorio che animeranno le strade e le piazze del borgo toscano. Sentiamo le interviste. Sapori è ormai una manifestazione tipica, non soltanto del comune di Fivizzano, ma di tutta la provincia di Massacarrara ed ha avuto un vero e proprio riconoscimento a livello regionale come una delle più importanti manifestazioni di carattere enogastronomico e culturale del nostro territorio. L'edizione di quest'anno si sdoppia e arriva quindi anche al periodo natalizio. Si tratta infatti di un'iniziativa ormai talmente apprezzata che la replica, anche in un contesto diverso da quello usuale, che di solito è quello dell'inizio estate, diventa un'occasione di valorizzazione non soltanto dell'iniziativa, ma anche di Fivizzano, uno dei borghi più belli della nostra regione. Si tratta peraltro di un'iniziativa che si salda anche a un altro contesto, quella della valorizzazione del presepe, uno dei simboli più importanti delle festività natalizie, che viene quindi riscoperto in tutta la sua importanza, nel suo carattere identitario e connotante anche del territorio e delle moltissime frazioni che compongono il comune di Fivizzano. Il mio vuole essere un plauso all'amministrazione comunale, perché ancora una volta dimostra quanto sia importante credere nella forza della cultura, nella promozione del turismo e di un territorio come quello di Fivizzano, che seppur collocato ai margini della nostra regione, in una zona assolutamente periferica, riesce sempre a far parlare di sé e lo fa per tutta una serie di interventi che vengono realizzati in questo territorio e che stavolta acquisiscono una valenza particolare da un punto di vista culturale, storico e identitario. Come è la scelta di sdoppiare questo evento e proporlo anche sotto Natale? Perché noi crediamo molto nel senso di appartenenza e di identità a un nostro territorio, per cui chiamare anche Sapore, la manifestazione grande che avviene i primi di giugno e apre la stagione estiva alla stagione invernale a Natale, Sapore di Natale, anche questo racchiude un recupero di quello che sono le tradizioni, il senso di appartenenza e di identità a un territorio che ha molto da raccontare. È tutto, grazie per essere stati con noi e per la vostra attenzione l'appuntamento con una nuova puntata di Monitor Consiglio la prossima settimana. Buona serata.